Buongiorno e buon sabato, scusate l'ambiente bucolico ma sono una delle nostre cascine a dare un'occhiata. Allora, a fare anche un po' di esercizio fisico che fa benissimo lavorare la terra. Ascoltate, allora, lavorazioni sono state, se qualcuno non l'ha ancora trovata controlli anche oggi, controlli anche nulla di perché l'Inps ha fatto così fino adesso, anche quelle le ha spezzettate, con pagamenti a partire dal 27, ribadisco a partire dal 27, non il 27, quindi potete trovarlo il 27, il 28 e nei giorni successivi. Funziona così ormai da mesi, quindi non ci sono cose strane. Sono contento che qualcuno abbia trovato, chi era in sospeso abbia trovato la domanda accolta, è una cosa molto bella e quindi lo dico anche agli altri, controllate, ma controllate anche oggi e anche lunedì perché è ancora una domanda sospesa, perché potrebbe passare d'accolta. Se non avete ancora visto, lo date di disposizione e controllate ogni ora perché, come vi ho detto, non è l'RDC, eravate abituati in un modo, qui funziona tutto in un altro modo. Niente, lunedì ci sentiamo con un mini video a proposito proprio di queste cose, delle ricariche, che poi ci saranno, il video farò anche martedì perché si sa mai, qua lo sapete, come funziona, ormai dovrebbe essere piaciuto il callo. Ci saranno anche le lavorazioni dell'SFL, quelli che lo devono prendere a fine mese, mentre gli altri che lo prendono a metà mese lo hanno già preso, anche se in ritardo, lo sapete, funziona così anche in quel caso. Per il resto, alle 16 sull'altro canale, sul secondo canale, c'è un video sfogo. L'ho spostato sull'altro canale per prudenza, perché è piccolo, quindi, diciamo così, è più facile che passi sotto i radar. Qui non si sa mai, l'avete visto cosa è successo, per settimane era tutto bloccato, poi 40 iscritti in un giorno, quindi, boh, io, nonostante gli auguri negativi che aveva fatto una persona. Niente, mi raccomando, controllate anche oggi chi non ha ancora trovato un esito e per chi ha trovato l'esito e deve ritirare la carta, aspettate il secondo messaggio. Non peraltro, io vi direi di provare comunque, ma non ho detto che all'ufficio postale abbiano la carta, quindi è meglio aspettare il secondo messaggio in modo che abbiate una conferma ufficiale. Poi, ragazzi, lo sapete, la carta si proiettirà in qualsiasi ufficio postale, fattuale che alcuni sono andati, non l'hanno trovata nell'ufficio postale del proprio paese, hanno dovuto spostarsi di chilometri e anche questa è una delle cose assurde di questa misura. Bene, ragazzi, io vi saluto, torno qua a fare un po' di esercizio che sto portando lei vuole. Sì, perché non è che perché sei il padrone, devi sbattere le balle in campagna, devo lavorare tutti. Così ci ha insegnato la nostra madre, la filosofia del kibuzi, di cui vi parlo nel video su un altro canale, alle 16, implica anche questo, non ci sono persone superiori agli altri e se non hai contatto con la terra, se non hai contatto con il vivere normale, certe cose non le capisci. Perché ci sono persone che pensano di capire la povertà andando in giro in Lamborghini. Io vi saluto, vi abbraccio a tutti, noi ci risentiamo lunedì e anche domani cercherò, quando finisco qua, tempo permettendo, di completare la lavorazione sul video di Waterloo, che forse verrà scisso in due parti, non lo so. Un abbraccio, ciao!